E' l'ora della grande vicinanza, sono le parole del Cardinale Bagnasco ai funerali delle vittime del Ponte Morandi. Genova non si arrende, ha proseguito affidando a Maria il dolore dei familiari. Nel pomeriggio è morto un ferito grave che era ricoverato a San Martino, tra le macerie ritrovati invece altri quattro corpi, il numero delle vittime sale a 43, sul posto la visita oggi del Presidente Mattarella. Il Consiglio dei Ministri stanze a 28,5 milioni per l'emergenza, enti e istituzioni si immobilitano per gli sfollati, da autostrade un piano da mezzo miliardo e la ricostruzione del ponte in acciaio. Tutto il Tiguglio ha partecipato al lutto nazionale, le chiese della diocesi hanno suonato le campane a lutto, abbassate le serrande dei commercianti, sentimenti di partecipazione e richieste di giustizia. Si sono rinnovati a Pezzonasca di Moconesi le celebrazioni per la Madonna dei Fiori, la festa nata 68 anni fa per chiedere a Maria di preservare la floricoltura locale dalla grandine. Sono 21 i bambini ucraini ospiti in famiglie del Tiguglio, trascorreranno un periodo di vacanza fino al 27 agosto. Molte associazioni si stanno prodigando per allietare il loro soggiorno. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio oggi. Nella giornata del lutto nazionale si completa purtroppo l'elenco delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Al momento i morti sono 43. In mattinata è stata recuperata la carcassa della vettura a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da tre persone. Oggi pomeriggio poi è stato trovato l'ultimo disperso. In origine infatti erano due i dispersi ma un tedesco inserito nell'elenco degli scomparsi ha telefonato in prefettura spiegando di stare bene. Al San Martino infine è deceduto uno dei feriti gravi. Per alcune delle vittime questa mattina alla Fiera del Mare di Genova sono stati celebrati i funerali in un clima di partecipazione, silenzio e preghiera. La sintesi nel primo servizio con Cristina Oneto. Sgomento e vicinanza, una profonda ferita e al tempo stesso una catena infinita di solidarietà sono diversi i sentimenti evocati dal cardinale Angelo Bagnasco nell'omelia pronunciata durante i funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Alla Fiera del Mare sono presenti le massime cariche dello Stato, istituzioni regionali e locali e tante persone accomunate da un dolore sconfinato che ha suscitato incredulità e al tempo stesso partecipazione in tutta Italia e da diverse parti del mondo. Bagnasco parla di uno squarcio nel cuore di Genova ma prosegue il presole quanto più ci sentiamo deboli ed esposti tanto più sentiamo che i legami umanici sono necessari. Come un ponte ci permette di varcare il vuoto così la fiducia ci consente di attraversare le circostanze facili o ardite della strada terrena. Il discorso del cardinale arcivescovo interrotto due volte dagli applausi. La prima quando evoca il carattere del genovese spesso riservato e nascosto ma capace di grande sentimento. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo. Il secondo applauso quando viene sottolineato la tempestività della rete organizzativa a tutti i livelli e la disponibilità generosa di chi ininterrottamente da martedì prosegue nelle ricerche. La professionalità generosa di tutti a cominciare dai vigili del fuoco. E' l'ora della grande vicinanza, conclude Bagnasco, affidando a Maria assunta in cielo la capacità di ciascuno di guardare in alto. Guardare a lui, sottolinea, ci eviterà la disperazione e potremo tornare a guardare con coraggio il mondo. Uno sguardo che oggi è tornato a riempirsi di lacrime e partecipazione quando, durante la preghiera eucaristica, Monsignor Alberto Tanasini ricorda i nomi di tutte le vittime. Malai, Manuele, Marius, Marta, Matteo, Melissa Cristiani, Nathan, Roberto, Samuele, Stella, Vincenzo, William e gli ultimi ritrovati e non ancora identificati. Durante la celebrazione si è svolto un momento di preghiera per i propri defunti da parte della comunità musulmana di Genova. Un imam ha pronunciato parole di vera fratellanza. Sentiamo. Il crollo di un ponte fisico-metaforico provoca sempre un gran dolore. Sono due punti che non si toccheranno più. Con queste parole un imam della comunità islamica di Genova interviene dopo l'orazione finale del cardinale Bagnasco. Preghiamo, prosegue, perché la pace sia per tutti voi, per l'Italia e per gli italiani. Anche le sue parole sono commosse e vengono accolte dalla folla con un lungo applauso. La nostra Genova, la zena, che in arabo significa la bella. Preghiamo per Genova, la superba, saprà rialzarsi. Tra le vittime del ponte Morandi ci sono infatti due ragazzi di fede islamica, Eddie Bocrina, di 28 anni, e Marius Dierri, di 22, entrambi albanesi. La preghiera per i due giovani ha unito l'Assemblea in un momento di grande fratellanza. Noi abbiamo voluto dare testimonianza chiara della nostra partecipazione alla città. Abbiamo voluto rinforzare il ponte di dialogo, di vicinanza, di fratellanza che ci lega a questa città. E la vostra presenza anche per due persone che vi hanno colpito da vicino? Sicuramente sono stati colpiti due famiglie albanesi, hanno perso due giovani, viti molto giovani, che ha il dolore più forte. Però vi dico la verità, avrei partecipato allo stesso anche senza vittime musulmane. Marius Dierri è stato salutato da tutta la squadra del Campi Calcio Corniglianese, società del campionato Ligure di seconda categoria. Il ragazzo era il più giovane del vivaio verde-nero. È venuto quest'anno, l'abbiamo accorto proprio a braccia aperte, non so, perché era un ottimo ragazzo, non ci sono parole come descriverlo. È una grossa perdita, perché stavamo cercando di costruire un vivaio e ci mancherà tanto. Speriamo che ci sia sempre vicino lo stesso e giocheremo anche per lui. Lo avete accompagnato con la divisa? Con la divisa, con la divisa anche gliel'abbiamo messo nella sua bara. Un modo da ricordare e il numero 21 sarà sempre su. Domani mattina nella chiesa di Santa Sabina di Trigoso, durante la messa delle ore 10, ci sarà una preghiera per ricordare tutte le vittime del crollo del Ponte Morandi, in particolare per la famiglia di Pinerolo, che si trovava a transitare sul viadotto della 10 per raggiungere la frazione di Sestri Levante, dove avrebbe trascorso alcune giornate di vacanza. Il Consiglio dei Ministri, oggi riunito in Prefettura a Genova, ha assegnato 28,5 milioni di euro per consentire di superare la fase dell'emergenza. La cifra si va ad aggiungere ai precedenti 5 milioni già stanziati. I fondi serviranno per la gestione delle macerie, per garantire nuove case per gli sfollati, per organizzare la viabilità alternativa e per incrementare i servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario. E un piano di interventi è stato spiegato oggi dall'amministratore di autostrade Giovanni Castellucci in conferenza stampa. Si parla di lavori a sostegno della viabilità genovese, la ricostruzione del ponte sul Polcevera, che sarà in acciaio, serviranno, ha detto Castellucci, otto mesi, ma anche di un fondo a favore dei familiari delle vittime e degli sfollati. Il piano si aggira intorno al mezzo miliardo di euro. Inoltre, sino a quando non sarà ripristinata la viabilità, dal lunedì il pedaggio Bolzaneto Ovest e Voltri-Pra sino all'aeroporto sarà gratuito. Ma ora torniamo sul luogo della tragedia, dove abbiamo raccolto la testimonianza di alcuni passanti e soccorritori, ancora con Roberto Costa. Lei dove si trovava? Io mi trovavo dopo il ponte, a monte, del ponte dove c'è la semicurva, prima di arrivare al posteggio dell'IKEA. Ci trovavamo fermi lì e è sceso uno, due macchine più avanti di dove eravamo noi. Dice, è venuto giù il ponte. Io guardo e fra la polvere, l'acqua e tutto qua non si vedeva niente. Poi alla fine siamo riusciti a vedere, il ponte non c'è più. Gli dico, dicevano, quello lì è matto. Poi gli dico a mia moglie, guarda un po', non c'è, è venuto giù davvero. Una tragedia in mano che, ripeto, nessuno avrebbe mai immaginato. Per Genova questo ponte era un simbolo, anche un vanto per la città, oltre a tutte le altre cose. E vederlo così, incrollato, lascia veramente dell'amaro. È la quarta notte che siete impegnati. È la quarta notte, sì, sono stati un impegno ininterrotto, abbiamo garantito anche supporto psicologico H24, sia al campo, quindi qua per i soccorritori, sia ai familiari delle vittime che erano in attesa, sia la famiglia che da quattro giorni non ha lasciato il campo, sia le persone che erano, sono state e quindi si sono trasferite all'obitorio, al pronto soccorso in attesa appunto di notizie dei loro familiari. Ci sarà poi il nostro impegno futuro nei prossimi giorni per supporto quindi ai soccorritori che si sono duramente impegnati nel recupero delle salme durante la gestione di questo soccorso e poi continueremo un lavoro anche se seguiremo un progetto un po' più a lungo termine le persone sfollate. Cassa Depositi e Prestiti e Comune di Genova hanno messo a disposizione degli sfollati del Ponte Morandi la struttura ricettiva denominata Palazzina Ex Casa delle Infermiere. La struttura ha una superficie utile di 2200 metri quadrati ed è suddivisa in 40 residence già arredati in grado di accogliere oltre 100 persone. Sono in corso tutte le attività per garantire in tempi brevi la piena fruibilità dell'immobile che sarà assegnato al Comune a canone di livello sociale. Anche Confedilizia propone una serie di iniziative per aiutare le persone costrette a lasciare le proprie case. Quella più rilevante sta nella proposta al Comune di una convenzione per consentire a coloro che siano proprietari di abitazioni non occupate di darle in locazione in via transitoria al Comune a canoni agevolati affinché quest'ultimo le possa mettere a disposizione delle famiglie sfollate. Inoltre presso la Confedilizia di Genova sarà aperta una sottoscrizione finalizzata a raccogliere fondi da devolvere alle famiglie delle vittime del crollo e anche agli abitanti delle case evacuate. E ora andiamo anche sul sito teleradiopace.com perché le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni in seguito al crollo del viadotto potranno usufruire gratuitamente del trasporto taxi per recarsi nelle proprie abitazioni ogni volta che devono recuperare oggetti personali o qualsiasi altra cosa. Il provvedimento deciso dal Comune, dalla cooperativa Radio Taxi 010 5966, sarà in vigore dal 20 agosto al 2 settembre. A disposizione c'è anche un numero telefonico da contattare in caso di necessità e che trovate appunto sul nostro sito 335 76 585 24. Le persone poi saranno accompagnate in casa dal personale della protezione civile e dai vigili del fuoco. E tutto il Tigulio oggi ha rispettato il lutto nazionale. Il nostro territorio si è fermato per alcuni minuti questa mattina per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi. Le campane delle chiese di tutta la nostra diocesi hanno suonato a lutto e invitato ad un momento di preghiera. Stiamo vedendo le immagini che abbiamo registrato questa mattina a Lavagna. Le campane hanno iniziato a suonare alle 11.30. Abbiamo visto la Basilica di Santo Stefano in coincidenza con l'inizio dei funerali di Stato. Serrande dei negozi abbassate e in tutti i comuni bandiere esposte a mezzasta. La maggior parte delle attività di spettacolo o di intrattenimento sono state sospese, annullate o rinviate dalla costa all'entroterra. A Zoagli tutte le manifestazioni sono sospese sino a lunedì compreso. Questa mattina abbiamo raccolto alcune voci, alcune testimonianze in centro a Chiavari. Sentiamo. Il suono delle campane, le serrande abbassate, le luci spente e tanta tristezza negli animi delle persone. Ci troviamo in piazza Mazzini, a Chiavari, la piazza del mercato, dove per 15 minuti dalle 11.30 alle 11.45 decine di commercianti hanno deciso di abbassare le serrande, chiudere, fare un momento di riflessione per ricordare tutte le numerose vittime della caduta del Ponte Morandi, a Genova. Qual è lo stato d'animo della città oggi? Morta. È molto brutto sostenere queste cose, questi incidenti, perché si possono pure evitare. Si possono pure evitare questi incidenti. E quindi siamo proprio giù di animo, ma tutti. Avete deciso di fare un momento di pausa, un momento di riflessione. Sì, ci vuole. Per tutti quelli che hanno perso tanto, hanno perso la vita. Siamo tutti un po' tristi, molto scossi da questa situazione, da questa tragedia. Non ci voleva. Ma intanto di grande apprensione, di grande preoccupazione. Non abbiamo creduto fino a quello che era successo nei primissimi momenti e nei primissimi atti. Poi le immagini hanno dato conferma di una notizia drammatica. Ancora oggi siamo sicuramente in una situazione di confusione, di difficoltà, di apprensione della notizia. Lasciamo la pagina dedicata alla tragedia del ponte Morandi di Genova. Veniamo sul nostro territorio con l'informazione religiosa. Oggi pomeriggio, nella chiesa dei frati Cappuccini di Viale Tappani a Chiavari, è stato ordinato un nuovo frate, Jean-Marc Bollo. Di madre francese e il papà di Moneglia, fra Jean-Marc, ha vissuto la sua infanzia a Moneglia, dove ha maturato la propria vocazione francescana, seguito dal suo parroco Don Daniele Minetti. Sotto la guida poi di padre Lorenzo Zamperin ha iniziato il cammino vocazionale. Nel 2011 ha emesso la professione temporanea e nel 2014 quella perpetua. Oggi è stato ordinato da un vescovo Cappuccino Ligure, missionario in Peru, Monsignor Lino Panizza. E per un momento di festa per la famiglia dei padri Cappuccini è anche una nota dolorosa. Infatti c'è stato un lutto nei padri Cappuccini della Liguria è mancato padre Candido Capponi, di 83 anni. Il religioso da qualche tempo era nell'infermeria del convento di San Bernardino di Genova e non è sopravvissuto ad un intervento che ha avuto al San Martino nei giorni scorsi. Per tanti anni è stato cappellano negli ospedali genovesi, come appunto San Martino e anche il Gaslini, e ha predicato moltissimo, soprattutto in tanti santuari della Liguria. Ed era conosciuto per essere il confessore del Cardinal Siri. In Diocesi di Chiavari padre Capponi predicava in occasione della novena dell'alba al santuario di Montallegro a Rapallo. E' stato anche intervistato da Telepace per questa occasione, vedete le immagini. Domani e lunedì alle ore 18 sarà recitato il rosario al convento di San Bernardino a Genova, dove martedì mattina alle ore 10 saranno celebrati i funerali. La settimana trascorsa è stata caratterizzata dalle celebrazioni religiose in onore di Nostra Signora Assunta. In Fontanabuona, nella frazione di Pezzonasca a Moconesi, Maria è venerata sotto il particolare titolo di Madonna dei Fiori. La festa si rinnova da 68 anni ed è legata ad un particolare voto fatto dagli abitanti della zona. Sentiamo. La tradizione di celebrare la Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Moconesi trae la sua origine dal passato, da quando quell'area di Fondovalle fertile e produttiva era interamente coltivata a fiori. Gli abitanti della zona fidarono a Maria le loro aspettative di raccolto chiedendo la protezione dalle intemperie. I miei antenati, con quei signori che erano venuti, che sono stati i fondatori della festa, hanno detto facciamo dire una messa in questa capelletta che la Madonna ci protegga dalla grandine. Ed è lì è nato. Non si faceva niente, allora si faceva la messa e basta. Oggi il territorio e l'economia della valle sono radicalmente cambiati, ma è rimasta immutata la tradizione che si rinnova ogni anno in prossimità della solennità dell'assunta, richiamando fedeli e sacerdoti anche dalle zone nimitrofe. Da quando sono arrivato qui ormai sono 23 anni e sono sempre venuto tutti gli anni dal primo anno. Una volta di più di ora, ma ancora adesso un po' si fanno questi scambi. Certo che siamo in pochi, magari uno viene anche pesante. Ma una volta quando c'è un più prete è una cosa abbastanza normale. Il fiore, che è simbolo di beltà, delicatezza, profumo, ha caratteristiche che richiamano la figura della madre di Gesù. La messa, celebrata da Don Guido Perazzo, ha radunato molti fedeli di una vallata che ogni anno rinnova il suo voto a Maria, affidandole le fatiche del nostro tempo. Per la Fontana Buona chiediamo sicuramente uno sviluppo, che ne abbiamo bisogno la Fontana Buona. Adesso avete visto che è tornata la statale, quindi si spera che venga migliorata, si venga implementata. Si parla del tunnel della Fontana Buona da anni, da diecenni. Speriamo che venga edificato e reso fruibile per tutte le persone che hanno bisogno e soprattutto per rivitalizzare le infrastrutture. Le strade, le infrastrutture digitali sono fondamentali per rivalorizzare il nostro territorio, ma tutti i territori dell'entroterra. I problemi nascono nell'entroterra, poi si abbattono sulla costa. Festa di Sant'Elena a Campegli di Castiglione Chiavarese. Domattina alle 9 la messa al santuario seguirà la processione fino alla chiesa parrocchiale, dove alle 10.30 sarà celebrata la messa della comunità. Alle 17 poi il Vespro e la processione. Lunedì alle 17 saranno ricordati durante l'Eucarestia i defunti della parrocchia. Seguirà la processione al santuario di Sant'Elena e la benedizione con le reliquie. Festa di Sant'Elena anche a Soglio di Orero. Questa sera alle 20.30, in occasione della festa dedicata alla compatrona della comunità, saranno accesi i percorsi luminosi dell'itinerario blu e rosso del murales di Pian dei Ratti. Domani alle 8.30 la messa celebrata da Don Marco Gattorna. A Soglio la devozione risale al 1700 e nella chiesa è conservata una statua a linea datata 1778 dello scultore genovese Pasquale Navone. La comunità di San Massimo a Rapallo domani celebra il santo titolare. Alle 10 la messa celebrata da Don Pino Carpi, il rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Alle 17.30 i Vespri e la processione. Lunedì alle 19 la messa di ringraziamento e di preghiera per i benefattori e i collaboratori defunti. E infine l'arci confraternita di San Bernardo a Santa Margherita Ligure celebra domani il suo patrono. La messa alle 8.30 all'oratorio di Corso Matteotti. Alle 17 il Canto del Vespro. Per tutta la giornata l'oratorio sarà aperto. Cambiamo tema. Entra nel vivo il soggiorno estivo per 21 bambini ucraini provenienti dalla zona di Cernobi che stanno trascorrendo un periodo di vacanza ospiti nelle famiglie del Tiguglio. Per la loro accoglienza oltre all'associazione Baia delle Favole e al comune di Sesti Levante si stanno mobilitando associazioni di volontariato e numerosi enti. Sentiamo. Sono 21 e saranno ospitati in famiglie del Tiguglio sino al 27 agosto prossimo. Sono i bambini e i ragazzi ucraini accolti anche quest'anno nel nostro territorio in uno scambio che si rinnova da quasi 20 anni. Ad organizzare il soggiorno estivo è l'associazione La Baia delle Favole che porta avanti una tradizione avviata dal compianto Don Michele Costa nell'immediatezza del disastro nucleare di Cernobil. A tutt'oggi il periodo di vacanza nei comuni del comprensorio rappresenta oltre che uno scambio umano e culturale importante un'occasione di integrazione e di benessere. Vengono dalla regione di Poltava e dalle province limitrofe e sono 21. Poltava è una città che ha circa 350 chilometri a est di Kiev, dalla capitale. Il comune capofila nell'accoglienza è Sesti Levante dove i giovani ospiti possono ogni giorno frequentare i centri estivi comunali insieme ai bambini della città. Giornate di mare, gite e giochi. Al termine di ogni giornata rientro in famiglia che non esaurisce però l'agenda degli appuntamenti. La collaborazione stretta tra istituzioni e mondo del volontariato rende possibile e piacevole la vacanza per i bambini ucraini. È stato organizzato mediante la collaborazione principale del comune di Sesti Levante, però ci aiutano tantissimo anche le parrocchie, gli enti, i privati, i commercianti, i artigiani. Quindi diciamo che dobbiamo dire un grazie grande, grande, grande a tutti coloro che ci aiutano in questa opera di solidarietà e di accoglienza. E principalmente, dopo Sesti Levante, le famiglie che ospitano i bambini. Una notizia di cronaca, un uomo di 80 anni ha avuto un malore mentre si trovava in mare a Moneglia e ha rischiato di annegare. È successo questa mattina, l'anziano aveva già difficoltà motori e spiegano i soccorritori intervenuti sul posto. È stato portato a riva dai bagnini e poi aiutato dal 118. È stato sedato per potergli gestire le vie aeree, gli è stato tirato fuori mezzo litro di acqua e sabbia. Stabilizzato, è stato poi portato in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. In conclusione il calcio. La Virtus Entella ufficialmente ha presentato la richiesta di ammissione come ventesima squadra al campionato di Serie B per la stagione 2018-2019. Con una lettera indirizzata alla Federazione e al Comitato Olimpico e alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, ma anche alla Lega Italiana di Calcio Professionistico, il Presidente Gozzi ha sottoposto al vaglio degli interessati una serie di considerazioni affinché venga presa in esame la richiesta di riammissione. In particolare si fa riferimento all'anomalia che un campionato a 19 squadre rappresenterebbe per la regolarità delle competizioni e sul fatto che la Virtus Entella sia la migliore delle retrocesse del campionato di Serie B. In occasione della giornata di lutto nazionale sono state sospese alcune partite di calcio. Per la Serie A domani non scenderanno in campo Genoa e Sampdoria. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D che era in programma per il fine settimana. In modo particolare la Lega Dilettanti si stringe intorno al ricordo di Marius Dierri di 22 anni, di origine albanese attaccante e giovane calciatore del campi corniglianese di cui abbiamo parlato nel servizio in apertura che è scomparso nel crollo del ponte Morandi di Genova. Sospesa anche l'attività giovanile della Virtus Entella fatta eccezione per le squadre impegnate fuori regione. La Virtus Entella scenderà in campo domani a sostegno di Genova. Alle 20.30 allo stadio comunale di Chiavari si svolgerà infatti una partita amichevole con l'Albissola. L'ingresso allo stadio sarà gratuito. Nel pre-gara sarà presentata la squadra che indosserà la maglietta con la scritta Genova Rialzati. Le magliette di tutta la rosa saranno poi messe all'asta online sul sito Tribum e l'intero ricavato insieme ad una raccolta volontaria che sarà effettuata all'ingresso dei settori Tribuna e Gradinata Sud e quelli riservati appunto agli ospiti e al pubblico. Ebbene questa raccolta sarà destinata alle famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi. Questa dunque è la situazione del calcio locale che rispetta il dolore di tutte le persone coinvolte dalla tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova. Ora vediamo gli appuntamenti in programma per la giornata di domani con Giacomo Rizzi. Appuntamenti in agenda per domenica 19 agosto. Dalle 8.30 alle 12.30 sarà presente in piazza Mazzigna Chiavari un'auto emoteca dell'Avis per una raccolta straordinaria di sangue. Ultima giornata dedicata alla mostra mercato enogastronomico aspettando pane e olio. Dalle 10 alle 20 in piazza Matteotti a Sestri Levante. Alle 10.30 in via del paese ad Eva Marina ci sarà la sfilata del gruppo Alpini. Continua la 41esima sagra della patata a rocca tagliata in erone. Dalle 15 distribuzione gratuita di patatine fritte e alle 19 apertura stand gastronomici. In serata balli con l'orchestra e simpatia. Il mercatino Creativi in Libertà verrà allestito in piazza della Libertà a Lavagna a partire dalle 18.00. Dalle 20 si potrà partecipare alla serata gastronomica nei giardini di Cavia Renelle a Lavagna organizzata dalla polisportiva Renelle. Salvo Agosta presenterà il suo romanzo Quell'attimo di gioia. Alle 21 nella torre Cadolingia in località Costa di Framura. Prosegue la rassegna cinematografica organizzata dalla Macca Gioconda. Alle 21 alla colmata mare Lato Levante a Chiavari sarà proiettato il film La vita è facile ad occhi chiusi. Continua la rassegna musicale Portofino Classica. Alle 21.15 al teatrino comunale di Portofino si trarà al concerto musicale Chitarre e Pianoforte a cura di Castiglioni e Marconi. Nell'ambito del Festival Organistico Internazionale l'organista Oliver Latri si esibirà nella Basilica dei Santi Gervasi e Protattori da Pallo alle ore 21.30. Santi in Gersa a Santa Margherita Ligure. Alle 21.30 in piazza Caprera si trarà al concerto dei The Bardi Bolden Legacy Band. Passiamo adesso agli appuntamenti per lunedì 20 agosto. Il mercato di Forti dei Marmi sarà in via 20 settembre ad Aiva Marina dalle ore 8 alle 20. Impariamo il mare, il laboratorio per bambini con giochi di riconoscimento delle specie e prove acquatiche e organizzati in Piazza del Sole a Santa Margherita Ligure dalle 10 alle 13. Prosegue l'iniziativa Aperitivo con l'autore alle 18 nella piazzetta di San Michele di Pagana Rapallo. Appuntamento con Caterino Olcide Spingardi e Farida Simonetti. Presentazione del progetto Mani tra i sassi alle 18.30 nella Biblioteca del Mare di Riva Trigoso. E infine, secondo e ultimo appuntamento con il Festival Organistico Internazionale. La concertista svizzera Monica Henking si esibirà alle 21.15 nella chiesa parocchiale di San Martino in località Polanesi a Reco. Si conclude qui l'appuntamento con il nostro telegiornale. Per tutti gli aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata, buona domenica a tutti. Grazie per l'attenzione, buona domenica a tutti.